Buongiorno, ben svegliati, mercoledì 16 ottobre alle 7 del mattino, questa è la rassegna stampa di Omnibus News. Rassegna stampa che, come vedrete, non comprende, o meglio comprende, ma in modo imparziale, le notizie che riguardano la manovra, che pure sono praticamente l'apertura e sulle prime pagine di tutti i quotidiani. Perché? Perché il Consiglio dei Ministri è terminato questa mattina all'alba, erano le 5, le 5 qualche cosa, quando il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia sono scesi in sala stampa, quindi 6 ore di Consiglio dei Ministri, è stato approvato tutto il pacchetto, quindi la legge di bilancio, il decreto fiscale, più ovviamente il documento da mandare a Bruxelles, che doveva essere mandato entro oggi. Quindi i giornali necessariamente, diciamo così, non hanno le notizie complete, che ovviamente vi daremo noi poi più tardi nel corso del telegiornale, ma quasi. Allora, partiamo da qui, per esempio il Corriere della Sera sceglie proprio di fare questa apertura, perché in realtà alcuni temi, peraltro si erano già visti, manovra al via divisi sul fisco, riunione nella notte per mandare a Bruxelles il piano dei conti pubblici ed esaminare il decreto sulle imposte, peraltro vi aggiungo io che è stato approvato salvo intese, quindi come sapete ci si possono rimettere le mani. Intanto, continua a scrivere il Corriere, Conte scrive a Gualtieri, lotta coraggiosa a chi non paga le tasse o ci metto io la faccia. E poi sul Corriere, ma lo trovate su qualsiasi altro quotidiano, schemi molto ben disegnati su tutte quelle che sono le misure per quello che riguarda le pensioni, per esempio quota 100 che resta invariata, ma ci sono degli aumenti, molto diciamo pudicamente il Corriere parla di mini aumento fino a 2000 euro per i pensionati, in realtà vedrete che c'è qualcuno che questa notizia la dà con accenti decisamente più polemici. E poi una lotteria se si usa la carta di credito. Intanto di spalla invece le notizie che ci arrivano dal fronte kurdo siriano, Putin interviene per frenare l'avanzata turca, lo racconta Lorenzo Cremonesi che è lì proprio sul campo e ci racconta dell'esercito di Putin che nel frattempo però rimpiazza gli Stati Uniti in Siria e lo zar, sarebbe Putin per l'appunto, che diventa mediatore tra Assad e la Turchia, in realtà più che altro un arbitro, vedremo con quanto peso. A centropagina una foto che fa una certa impressione se volete, ma insomma è un artista amatissimo e quindi Franco Battiato, 74 anni e il male misterioso. Ecco la sua ultima canzone che esce venerdì, la sua voce è stata registrata due anni fa, lo dice il suo manager, non è quindi un pettegolezzo, resta però invece dice il Corriere il mistero sulla sua malattia. E poi sempre dal Corriere l'anticipazione del libro, di un libro scritto da Papa Francesco, Nostra Madre Terra, che uscirà alla fine della settimana, fa un po' impressione vedere la firma, la terra è un dono per scoprirci amati, chiediamo le scuse di, per l'appunto, Francesco. Vi faccio vedere ancora dal Corriere della Sera, eccola qua invece questa notizia, poi forse avremo tempo di arrivarci, i corpi di madre e figlio abbracciati sul fondale, ormai stiamo trascurando queste tragedie, tragedie dei migranti, sono stati individuati per l'appunto in un barchino ieri a largo di Lampedusa, erano quelli del naufragio della scorsa settimana. La stampa, una manovra che sfida gli evasori, vedete si ritorna sul tema per l'appunto dell'evasione fiscale, il Bancomat, dice la stampa che diventa universale, oggetto del contendere anche il tetto di 1000 euro per il contante, sapete c'è chi voleva fermarlo a 3000, poi a 2000 si è arrivati a 1000, no però al carcere per chi truffa il fisco. Conte che dice la stampa teme le lobby in aula, scrive a Gualtieri, il ministro dell'economia, i politici hanno paura di giocare questa partita. A proposito di politici, in molti giornali oggi ci raccontano invece nel dettaglio, perché in realtà è stato registrato alle 6 del pomeriggio e quindi hanno avuto modo di vederselo per benino, lo scontro, incontro fra Matteo Renzi e Matteo Salvini ieri sera a porta a porta i due Matteo da Vespa, scintilla in tv e flirt dietro le quinte, più che flirt in realtà semplicemente diciamo così, sono persone civili, non si ammazzano, però insomma vabbè. La Repubblica, la scelta è diversa dagli altri, almeno nel titolo che immediatamente sopravanza, come si uccide una fabbrica? Si parla della chiusura di Wirp, lo stabilimento nel napoletano, le garanzie del governo non convincono gli americani, dal primo novembre a casa più di mille lavoratori e poi ovviamente ecco anche il titolo sulla manovra. A centropagina vedete invece la Repubblica ci riporta a parlare della guerra in Siria ma con un focus particolare, ecco le armi italiane per la guerra sporca di Erdogan, lo sappiamo, gliele vendiamo e questo significa insomma anche prendersi una certa responsabilità. Infine, prima di andare in pubblicità, il giornale, vi dicevo no, manovra da incubo, schiaffo ai pensionati per questo ricalcolo umiliante di 50 centesimi al mese. Sono le 7.06, è il momento della pubblicità, ci andiamo al volo e poi torniamo. Allora, alle 7.12 ripartiamo con la lettura dei quotidiani, tenendo presente, come vi dicevo anche prima, che la riunione del Consiglio dei Ministri è terminata alle 5 e quindi è evidente che insomma non tutto sulla manovra può essere raccontato oggi. È comunque stato spedito il documento programmatico di bilancio, anche perché scadevano i termini ieri e la parte su cui si concentra la maggior parte dei quotidiani nel raccontarci scene e retroscene è quella che riguarda invece il fisco perché è emerso, diciamo così, già nella giornata. Allora, per esempio, andiamoci a leggere la cronaca di Monica Guerzoni e Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera, scrivono i cronisti Caro, sull'evasione deve essere una rivoluzione che deve cambiare i comportamenti dei cittadini. Comincia così l'SMS con cui Giuseppe Conte ha spronato il Ministro dell'Economia e i tecnici del MEF a raschiare il fondo del barile e scovare i soldi necessari per chiudere in tempo la manovra. 3 miliardi di extragettito fiscale saltati fuori all'ultimo minuto anche grazie all'asse tra il Presidente del Consiglio e il DEM Roberto Gualtieri. Per il premio alla lotta all'evasione, oltre 100 miliardi l'anno, è la madre di tutte le battaglie. Una sfida che va affrontata con coraggio, mettendo gli interessi degli elettori prima di quelli dei cittadini. Qui insomma si racconta appunto di questa volontà del Presidente del Consiglio per cui, dice ancora il Corriere, alla fine i soldi sono saltati fuori Conte, determinato a passare alla storia come il Premier che abbassò le tasse colpendo i grandi evasori vuole appendergli al suo chiodo fisso il super bonus che tanti cittadini si troveranno nella calza della Befana per aver pagato con moneta elettronica, ristoranti, bar, elettricisti, meccanici e via. Elencando il tema dell'evasione del carcere per chi viene condannato segna un altro punto di attrito però attenzione fra Conte e Di Maio se il Premier aveva fatto trapelare qualche disagio per la timidezza del capo politico dei 5 Stelle sottolineato, sottinteso sui pagamenti elettronici la replica è arrivata per via traverse prima con la protesta dei 5 Stelle in Commissione Finanza che hanno detto la lotta, l'evasione si fa osteggiando i grandi evasori non il piccolo commerciante e poi con una durissima presa di posizione ufficiosa trapelata dai vertici del movimento la lotta all'evasione sia vera e non specchietto per allodole per fare regali a banche e multinazionali ma un braccio di ferro su chi ha più peso nel governo e ognuno alla fine può giudicare come è andata a finire la questione dell'evasione ve la voglio riprendere anche abbiamo visto prima la prima pagina del giornale il titolo in realtà era su questo ricalcolo per i pensionati ma ne parla come vedete anche nel catenaccio i contanti sono il diavolo torna al limite ai 1000 euro e ne scrive Nicola Porro nel fondo in prima pagina i cretini ideologici e dice contro il cretino ideologico c'è poco da fare se poi la materia riguarda il fisco la partita è persa in partenza un caso di scuola è la limitazione dell'uso dei contanti che anche questo governo ha intenzione di portare avanti prima si sostiene che l'evasione fiscale è un'emergenza nazionale e poi si dice che per combatterla occorre ridurre l'uso della grana fra virgolette bisognerebbe e qui è interessante la tesi di Porro bisognerebbe intanto dire che l'evasione non è affatto un'emergenza sì avete capito bene è un fantoccio nel quale ficcare gli spilloni delle streghe provate a ragionare senza pregiudizi meglio un paese con un'evasione che cresce del 3 e 4% o una nazione che non si sviluppa ma con i finanzieri in azienda ma torniamo ai nostri contanti tralasciando questioni di principio e libertà il cosiddetto nero che si fa per contanti è un nero da poveracci è la somma di tante piccole transazioni che possono diventare un gruzzolo ma che prese singolarmente sono poco rilevanti insomma questa è la tesi che è stata sostenuta anche nei giorni scorsi intanto a proposito di questo come vedete eccolo qua anche il fatto quotidiano che insomma il cui direttore anche ieri proprio in questi studi rivendicava voler essere più che manettaro fa questo io metterò le manette in prima pagina finché voglio fa questo titolo guerra all'evasione fiscale per conto e la soglia dei contanti deve scendere a 1.000 euro a Renzi va bene a 3.000 5 stelle PD divisi sul carcere e allora eccolo qua chi vuole manette e chi carezze questo è il titolo del del fatto dopodiché vi segnalo anche il titolo del tempo vedete si può vedere da due punti di vista diversi come Monti guerra alle banconote fino a tardanotte litigano tutti sulle tasse e sulle manette destinate agli italiani torna lo spettro del tetto massimo di 1.000 euro per spese in contanti fa notare il tempo la stessa scelta del prof a centro pagina vedete la foto di Don Matteo la vignetta deliziosa di Osho che dice ma che vi costava io non la posso dire alla romana perché il mio accento è infame la traduco che vi costava invitarne un altro un altro perché perché appunto vi dicevo c'è questo duello di cui tutti parlano c'è qualcuno che addirittura ne fa il titolo proprio di apertura è libero eccolo qua che scrive scontro in tv Salvini Renzi botte da orbi tra i due Matteo il fiorentino dice sono il nuovo Macchiavelli ho fatto un'operazione di palazzo il leghista un italiano su tre e con me lasciateci votare o torna l'invasione questo e ovviamente poi analisi analisi all'interno la più insomma secondo me una delle più interessanti è quella che trovate sulla stampa a firma di Fabio Martini tra re del papete e genio incompreso alla fine dice si sono aiutati una sfida con tanti colpi ma da gemelli che si legittimano scrive Fabio Martini vi consiglio la lettura di questo di questo articolo andiamo a vedere anche invece per quello che riguarda il partito democratico e Renzi due pezzi uno a fianco all'altro e forse anche per questo risultano la lettura risulta interessante Vandamarra sul fatto ci racconta del mutamento del partito democratico ieri c'è stata la direzione sapete i dem ora cambiano pelle nel nome attenzione dell'unione con i 5 stelle quali sono le novità salta l'automatismo tra segretario e candidato per emir si depotenziano le primarie si va verso un congresso tematico e poi l'altra notizia eccola qua no a Bonaccini il movimento 5 stelle emiliano mette il primo veto ai dem e quindi vedremo come andrà a finire intanto vi dicevo specularmente eccolo qua invece Renzi che si prepara per la Reopolda però il fatto quotidiano nota con una certa malizia imbarca eletti di Forza Italia e Ciellini chi è che ci parla ancora in prima pagina con il titolo di apertura di quello che succede al confine fra Turchia e Siria è il manifesto la linea russa questo è il titolo mentre vi voglio far vedere due articoli uno contrapposto all'altro in qualche modo sul giornale Armi l'ultimo bluff di Di Maio stop ai contratti già firmati ce lo racconta Fausto Biloslavo la Farnesina valuta l'embargo sulle forniture in essere sapete i contratti già firmati che diceva Di Maio quelli lì non si possono fermare e sulla Repubblica che avevamo già visto essere polemica su questo aspetto eccolo qua una pagina intera i micidiali elicotteri made in Italy il vero orgoglio del sultano sono quelli che già gli abbiamo venduto ma soprattutto quello che sta per arrivare proprio in questi giorni ad Ancara il cannone da 600 colpi al minuto in partenza da Roma verso Ancara vi voglio far vedere al volo solo un'ultima prima pagina è quella del messaggero perché riguarda Roma la notizia però insomma è veramente paradossale l'azienda della Lama l'azienda appunto della nettezza urbana ai netteurbini multate i romani o pagherete voi 300 addetti ora faranno le sanzioni mentre le strade però sono invase dai cassonetti lo so che è una cosa un po' locale però mi ha gettato nello sconforto idea che già i buchi dovrebbe decidere perché è vero che Roma è la capitale quindi insomma ci sta un po' per tutti ma siccome poi sono fatti di difendere nessuno ma tutti gli danno addosso quindi diventa automaticamente un problema nazionale insomma va bene come si dice tu dacci po' le notizie come dicono in Inghilterra parliamo del tempo forse è meglio anche perché in effetti il maltempo di ieri è passato per gran parte non senza così senza farsi sentire perché i fenomeni special nord e localmente al centro sono stati anche piuttosto forti al momento vedete resta questa striscia interrotta di nuvole che prende l'Adriatico e poi passa sullo Ionia attraversando la Calabria ancora vedete con dei nuclei temporaleschi e non solo sul mare che è più caldo lì è più facile ma proprio in Calabria e ci sono stati anche durante la serata e durante la nottata nella prima parte della giornata di oggi le piogge previste sono molto poche nord-est forse ancora e poi sul basso Tirreno ma vedete che in prevalenza siamo sul verde piccolissime quantità ormai questi temporali diciamo si dovrebbero esaurire in mattinata nel pomeriggio serata ancora meno perché scompaiono le piogge sul Friuli Venezia Giulia resta vedete la traccia proprio fra Sicilia e Calabria ma piogge molto deboli qualche nuvole insomma tutto passato vediamo se rimane così la situazione domani ricompare qualche debole pioggia siamo sempre appunto nella zona del verde cioè piccolissime quantità in Liguria quasi impercettibili anche al sud il grigio di qualche nuvola c'è quindi è un tempo nel complesso stabile ma non proprio pulitissimo come si dice cioè non tutto sereno e poi vediamo la giornata di venerdì in cui queste piogge al nord si estendono un poco prenderanno probabilmente il pomeriggio ancora Liguria l'alta Toscana al di là delle Alpi vedete ci sono dei fenomeni più intensi non è detto che entri non necessariamente poi sabato sulle regioni settentrionali però insomma quella porta è un po' aperta quindi qualcosa sicuramente entra anche se insomma vedete come vedete di fenomeni intensi non ce ne sono le temperature minime di questa mattina scese decisamente quasi soltanto sulle zone di nord ovest in parte qualche zona interna del centro ma sulle zone costiere e al centro sud i valori sono ancora abbastanza elevati stato dei mari anche questo vedete questi colori sono fra mosso e molto mosso quindi di vento ce n'è soltanto la parte più lontana dalla perturbazione che è arrivata vale a dire Basso Adriatico e Ionio resta assolutamente tranquillo se volete prossimo appuntamento subito prima delle 7.55 adesso pubblicità poi la prima edizione del nostro telegiornale con Flavia Fratello a più tardi mi piace a più tardi la prima edizione è arrivata un'imperi tutto e Grazie.